buongiorno a tutti e a tutte allora i ringraziamenti di routine li ha fatti il professor Pizzo noi siamo stati molto contenti di partecipare a questo tris di incontri perché il tema è per quanto ci riguarda sempre attuale è molto importante quello di oggi è un focus sulla questione religioni e omosessualità o fede e omosessualità dico soltanto due parole prima di lasciare la parola a loro rispetto alla questione del coordinamento Torino Pride il coordinamento Torino Pride è da sempre a fianco del TGLFF e collabora tutte le volte che può con l'Università degli Studi di Torino rispetto a tutto ciò che ha a che fare con la tematica LGBT in generale siamo contenti che l'Università si sia spesa in modo importante in questa occasione con anche il patrocinio del Cug della professoressa Giorcelli allora qui di fianco a me ci sono Anna Segre che è una insomma esperta di questioni legate a fede e omosessualità mirata all'ebraismo no? no no vabbè è la più esperta qui tra noi è la più esperta tra noi lei arriva da Roma è stata molto gentile ad accogliere il nostro invito e a fianco a lei c'è Don Barbero quello che per sempre per tutti sarà Don Barbero che non ha bisogno di grandissime presentazioni e con loro insomma cominceremo a ragionare rispetto a questo dualismo fede e omosessualità la precisazione che ci tengo a fare noi non abbiamo cercato di creare un vero e proprio contraddittorio abbiamo cercato di mettere insieme un'analisi rispetto a quelli che sono gli esperti o quelli che potrebbero essere sicuramente più esperti di noi rispetto a questi temi perché non ci interessava un vero e proprio contraddittorio vogliamo sapere da loro qual è l'opinione all'interno di quelle che sono in qualche modo le fedi di riferimento sappiamo molte cose rispetto a tutto ciò che gravita intorno al mondo della Chiesa Cattolica e al cristianesimo in generale ma ci tenevamo anche con la presenza della pastora Buonafede a analizzare la questione valdese e ci manca il pezzo quello legato all'Islam però insomma lo recupereremo nel prossimo futuro però vorrei iniziare con una domanda che credo che non abbia bisogno di una risposta lunghissima perché per primo insomma sono io ad avere un dubbio rispetto a questa questione allora di qualsiasi fede insomma parliamo che sia la fede cattolica, la fede ebraica, la fede islamica facciamo sempre riferimento a quelle che sono le scritture cioè tutti dovrebbero avere come faro le scritture ora siccome l'uomo è imperfetto le scritture sono state scritte da uomini e quindi potrebbero essere imperfette anche loro ma quello che mi incuriosisce moltissimo è l'interpretazione delle scritture quindi ciò che sta intorno al discorso di come vengono interpretate diversamente all'interno delle stesse fedi le stesse scritture e le stesse parole e le stesse traduzioni sappiamo che a volte le traduzioni non sono esattamente letterali o sono in qualche contesto anche sbagliate rispetto ad alcuni termini mi viene tra uno, l'esempio più famoso è quello di Sodoma in realtà e quindi insomma questa fallibilità dell'uomo e quindi anche delle sue scritture come possa essere ancora oggi considerata universale l'interpretazione cioè esiste davvero solo un'interpretazione? Per gli ebrei tutto è interpretazione Torah, Talmud, si interpreta tutto e quindi c'è una grossa discussione all'interno dell'ebraismo quindi esiste l'ebraismo riformato in cui le scritture sono state rinterpretate ne volevo anche parlare in particolare durante il mio intervento sì, quello che dici tu è così bisogna poter interpretare la scrittura non è assoluta certo c'è sempre lo zoccolo duro che lo ritiene assoluto ma all'interno dell'ebraismo come si sa, tre ebrei, quattro idee quindi c'è discussione e negli Stati Uniti la maggior parte degli ebrei fanno parte dell'ebraismo riformato e quindi di un ebraismo che riconosce la possibilità alle donne di essere rabbino di portare sefer, di fare mignon e a qualsiasi coppia di sposarsi, quindi anche alle coppie omosessuali di far parte della comunità come famiglie e di pagare le tasse come famiglie quindi tutto regolare c'è discussione ma è la domanda più interessante questa a meno che io ho preparato proprio un quarto d'ora e non voglio sottrarvi del tempo per limitare a questo primo approccio sono perfettamente d'accordo con quello che dicevi possiamo darci del tu ma soprattutto sapete io sono da anni molto interessato all'utilizzo dell'islam con le scienze storico-critiche e porterò specialmente gli ultimi studi che ho fatto in Francia rispetto all'islamismo e al cristianesimo la scrittura non è sacra perché è frutto di uomini specialmente più che di donne purtroppo ed è tutt'altro che sacra quando l'hanno fatta diventare sacra si è passato dalla testimonianza al dogma ed è scomparsa la testimonianza allora bisogna leggere contestualizzando situando interpretando sapendo che l'interpretazione è un fatto storico contingente mutevole plurale allora se avrò poi tempo vorrò documentare molto bene questa cosa che è dentro credo le nostre tre tradizioni molto parallelamente non divulgata perché sovente la vulgata è quella fondamentalista non è tanto l'ebraismo di cui si parli tu che di cui sovente si parla si dà l'idea del fondamentalismo islamico ebraico cristiano in realtà c'è una corrente fortissima di studi storici critici femministi pluralisti che sono una delizia peccato che l'ignoranza prevale in molti casi mi fermo allora comincio col dire che oggi è un giorno particolare perché oggi è 5 maggio io ho Mashoa cioè è l'ultimo giorno in cui i campi di Madausen gli ultimi campi sono stati chiusi quindi in tutto il mondo si ricorda la Shoah oggi comunque ebraismo e omosessualità ebraismo e omosessualità come dire Anna Segre sei nei guai sei femmina ebrea e anche omosessuale ce l'hai tutte se sei anche mancina ti scatta la pensione sociale sono anche mancina per l'ebraismo l'omosessualità è vietata non giacerai con un uomo come con una donna poiché ciò costituisce un abominio vietata ai maschi le femmine sono nominate ma la stigmatizzazione è imparagonabile meglio che non facciate come le donne egiziane scatta subito una certa curiosità per queste usanze di 5.000 anni fa che poi ho scoperto essere matrimoni con più uomini e anche matrimoni tra donne cioè sessualità tra donne e sessualità tra uomini ma le donne le donne forse non hanno una sessualità o forse sono costringibili o forse non esistono come diritti o forse il fatto che non sprechano il seme fatto sta che anche nelle legislazioni non religiose inerenti alla repressione e persecuzione dell'omosessualità quella maschile è sempre specificamente nominata mentre quella femminile disapprovata dalla morale e malvista comunque è inclusa sempre di striscio più sorriso di irrisione che violenza i maschi sono puniti nella religione ebraica perché letteralmente contravengono in contratto con la collettività la procreazione la legge dice che il seme non si spreca non ci si masturba non si commette adulterio non si hanno rapporti sessuali al di fuori della possibilità di concepire in modo proprio poi mi hanno ricordato che comunque nell'ebraismo la sessualità è anche per il piacere e questa cosa viene ricordata più volte anche per il piacere quindi l'importante è che tu lo faccia con tua moglie però puoi fare tutto non soltanto per la procreazione quindi mi è stato ricordato lo devo dire quindi non con un'altra donna che non sia nella posizione di richiarare di chi è il figlio è molto importante nei patriarcati stabilire chi è figlio di chi né appunto con persone dello stesso sesso cioè con altri uomini quindi ecco potremmo mettere l'omosessualità insieme all'adulterio e alla masturbazione la legge è questa e dovrebbe essere punita con la lapidazione ma bisogna subito fare due precisazioni primo sarebbe ipocrita oltre ogni confine di onestà intellettuale dire che omosessualità masturbazione adulterio incesto e tutti tutti gli abomini nominati sono la stessa cosa è come paragonare peccati veniali guardati con indulgenza da famiglie e ambienti sociali quindi da peccatore stesso e peccati capitali di cui vergognarsi e sentirsi colpevoli fin nelle parti più profonde di sé quindi anche se tutti e tre gli sprechi di seme sarebbero puniti con la lapidazione dobbiamo riflettere su come vengono percepiti dai fedeli d'altra parte il fatto che vengano messi nello stesso contenitore di significato anche ci deve far riflettere l'omosessualità nella legge ebraica viene considerata non tanto da un punto di vista morale ma inserita in una sorta di economia della fecondazione non è punito il desiderio sbagliato ma concepibile bensì l'atto e il secondo punto è che non si hanno notizie di lapidazioni per omosessualità né per adulterio o masturbazione dovesse preoccupare questo aspetto negli ultimi duemila anni ergo se è vero che come in tutte le religioni monoteiste l'ebraismo punisce l'omosessualità è anche vero che esiste un aspetto interlocutorio tra la riprovazione e la convivenza la comunità tollera chiude un occhio finge che non ci sia il fatto in sé perché è una trasgressione in una religione di norme e ufficialmente ha richiesta disapprova perché la legge parla chiaro che potrebbe mai fare se si parte dalla necessità di garantire il patriarcato del sistema familiare e potrebbe inventarsi l'ebraismo riformato come dicevo prima cioè rimettere in discussione tutto il ruolo della donna quando l'ebraismo riformato lo fa rimette in discussione tutto il ruolo della donna e quindi negli Stati Uniti c'è stata proprio una delibera dell'Unione Mondiale per l'Ebraismo Progressivo che invita tutte le associazioni a promuovere ovvero possibile l'uguaglianza matrimoniale all'interno del movimento e a unirsi con gli altri per sostenere la legislazione per aiutare a garantire i diritti legali alle coppie gay LGBT di sposarsi civilmente e religiosamente e di garantire loro gli stessi diritti legali e coniugali in piena uguaglianza delle coppie eterosessuali quindi c'è proprio una delibera a Gerusalemme queste sono le regole religiose ma Anna Segre o chi per lei come la mettiamo essere ebrea e omosessuale come dicevo all'inizio è una doppia stigma si sommano due debolezze l'essere ebreo cioè altro dalla maggioranza religiosa e l'essere omosessuale cioè altro dalla normalità di accompiamento consentito questa alterità crea un circolo vizioso di autoghettizzazione e esclusione un escalation di misconoscimento e aggressività di paura e presunzione di essere odiato tali da ingarbugliare la comunicazione da entrambe le parti ma perché metterla alla pari non è alla pari i più numerosi fanno del numero la loro forza e lo sappiamo essere ebreo e omosessuale deve far guardare con attenzione le date del processo a Dreyfus e a Wild un solo anno di distanza coincidenze non credo deve far guardare con gli occhi bene aperti quali sono le prime misure dei totalitarismi rispetto alle categorie sociali da reprimere sia il regime fascista in Italia sia quello nazista in Germania presero misure su omosessuali ed ebrei leggi, arresti, deportazioni e confino contemporaneamente ebrea e omosessuale vuol dire che mi porto dietro un'appartenenza minoritaria organizzata di famiglia che sono nata ebrea appartengo a una comunità con cui condivido i valori e che mi copre le spalle e quando mi sono confessato omosessuale la mia coscienza era già sveglia quando ho capito di preferire le femmine piuttosto che i maschi e quant'è indaginosa l'analisi di persecuzioni sociali così sottili e resistenti quanto è difficile ficcare uno spillo in mezzo al pregiudizio e dire ahah ti ho beccato alla vicina ossequiosa che lo sai che te sta spizzando malamente perché ti ha vista mille volte con la tua fidanzata parlare di omosessualità e ebreismo è come parlare di acqua di sabbia roba che non afferri se sei onesto lo ammetti sono argomenti irti esplosivi annosi di sicuro ti sfugge qualcosa e di sicuro stai facendo torti di qua e approssimando di là gruppi perseguitati incoercibilmente resistenti forti quanto le persecuzioni io sono già sveglia e so di essere com'è essere l'unica o tra i pochi so stare senza disturbare il coro nascondermi resistere capire il vento che cambia essere solidale e fare gruppo ci nasco minoritaria secondo me non è un caso che molti ebrei omosessuali hanno contribuito alla coscienza omosessuale nel mondo a creare comunità movimenti di opinione famiglie di appartenenza affettiva sociale ideologica erano abituati alla diversità avevano già un allenamento al contraddittorio con i più erano già pronti al fango dell'essere meno di altri perché ebreo è un'origine familiare religiosa minoritaria perseguitata più o meno a seconda dei periodi omosessuale no tu omosessuale sei solo qual è veramente il tuo cognome ma poi l'ebreo che è in te cosa pensa dell'omosessuale che è in te la prima guerra è intestina cosa diranno mamma e papà cosa si aspetta la comunità da te cosa ti aspetti tu stessa da te stessa questo tuo contravvenire ai dettami come lo gestirai rimanendo te stessa c'è ancora ebreismo in te anche se sei omosessuale si può essere ebrei in molti modi tutti accettabili discussi come dicevo prima tre ebrei quattro opinioni ma difficilmente rinunci a questa tua appartenenza e paradossalmente anche se la rinneghi rimarrà sempre un germe di polemica di spirito critico analitico sarcastico un senso etico rimarrà sempre un germe di polemica di spirito critico analitico sarcastico un senso etico o della legge l'ironia nell'imminenza di una debacle una ricerca di onestà intellettuale che derivano dal tuo ebraismo anche se sei frocio rimani comunque ebreo in qualche tua recondita forse persino inammissibile parte per mio padre sempre meglio che la mia fidanzata sia ebrea per dire i traguardi degli ultimi 30 anni a casa segre e questo è il mio contributo assolutamente non non tecnico non religioso a questo incontro il fatto che ci sia io qua ha un perché probabilmente di laicità nell'ambito della religiosità se no avrebbero invitato un rabbino insomma una persona molto molto più esperta di me nel parlare della filosofia della religione adesso c'è lui che è molto meglio dal punto di vista molto più impostato religiosamente io non so niente sono cattolica praticamente la cosa che però si evince ed ha colto nel segno Anna Segre rispetto a alla questione è che questo è davvero un incontro sulla laicità non è un incontro sulla religione e e come le fedi si rapportano al diciamo all'omosessualità però il l'unico l'unica cosa che a me viene da dire che dalle parole di una donna ebrea e omosessuale la visibilità delle persone omosessuali resta l'elemento scatenante di delle reazioni perché mentre prima venivamo in qualche modo tollerati nel nostro silenzio oggi le aggressioni e le le reazioni delle varie fedi nei nostri confronti sono molto più aumentate sono molto di più di quanto non fossero prima perché per fortuna la comunità LGBT è molto più visibile quindi il segreto insomma dell'evoluzione e del miglioramento della vita è davvero rendersi sempre più visibili e convincere tutti a farlo per quanto sia difficile e complicato ma dunque trovo azzeccato il vostro titolo liberaci dal male perché comunque dovendo parlare di religione identità di genere eccetera almeno dalla voce di un cattolico devo riconoscere che c'è stata una certa ossessione e persecuzione ma io su questo non mi dilungherò perché chi le ha patite le conosce abbiamo troppo letto e direi molto riflettuto io personalmente sono stato coinvolto molto negli anni 63 64 quando finiti i primi 5 anni di teologia asino del tutto e assolutamente proveniente da una famiglia tutti sposati etero eccetera mi incontrai con un omosessuale ma finché ne vedi uno dici c'è sempre un malato in giro nella società c'è sempre un'eccezione però me ne portarono dieci venti cinquanta ero assistente diocesano insegnante in seminario capì che dovevo rivedere un po' le mie visioni del mondo furono gli anni 63 64 per me gli anni decisivi della mia conversione per me al Vangelo di Gesù un Vangelo inclusivo e anche un momento in cui fui molto messo personalmente in crisi voglio ricordarvi questo perché allora non era facile parlarne trovare documentazioni 53 anni fa eri molto solo tu nella tua ignoranza nella tua formazione a modello unico devo dirvi che la letteratura era difficile da trovare era difficile poter parlare in pubblico di questo ma che cosa avvenne tra gli errori e gli orrori in cui tutti ci siamo un po' imbattuti e con i quali abbiamo fatto conto è maturata in me una lenta riflessione che essendo stato guarito dal mio pregiudizio dagli omosessuali alle lesbiche che incontrai allora già decine a centinaia ho detto finché avrò fiato parteggerò per questa battaglia di giustizia dei diritti certo dall'esterno perché io sono felicemente sposato con Fiorentina una donna della mia comunità e ho sempre avuto la percezione di capire solo qualcosa no? ma di mettermi c'era tutta in questa battaglia e devo dirvi che ogni giorno ho il dono prezioso di incontrare degli omosessuali e delle lesbiche nel mio epistolario c'è qualcosa che forse abbastanza particolare anche come numero ma vorrei dire ritornando alla mia esperienza di cristiano di tradizione cattolica sovente si legge una tradizione religiosa una esperienza di fede religiosa come monolitica è comodo per l'istituzione dare questa versione ma è anche comodo come messaggio da trasmettere alle persone questo è il cristianesimo questo è il cattolicesimo questo è l'islam questo mi capite è molto facile sia la dimensione diacronica quella sincronica non autorizzano questa lettura della realtà perché se passeggio dentro la storia della mia chiesa trovo delle tradizioni ribelli assolutamente reali la ricerca storica è un approccio rigoroso alla realtà dicono il plurale la contraddizione ovunque si viva ma la seconda riflessione è che la stessa semantica e l'epistolomologia vedono fenomeni di profonda scorrettezza parlo specialmente per la chiesa cattolica immaginate i giornalisti faccio un piccolo appunto parlano di chiesa in Italia come la chiesa fosse la chiesa cattolica ma usano la parola chiesa non è accorgendosi che intendono chiesa gerarchica io sobalzo ogni volta perché per me la parola chiesa cristiana vuol dire le chiese mi capite la mia è una delle chiese cristiane secondo per me chiesa non equivale a Vaticano e gerarchia ma equivale a popolo di Dio organizzato in una tradizione particolare quindi mi scontro continuamente anche a livello giornalistico con queste persone che semplificano sempre e non si rendono conto che le chiese cristiane sono molte che la chiesa non è assolutamente l'istanza gerarchica per me è proprio l'ultima cosa che penso è la prima che combatto la terza osservazione che vorrei fare è il dolore del vedere come si sacralizzano i testi come se essi le scritture fossero la parola di Dio tu cur bisogna porre alla Bibbia come al Corano le domande giuste ma come si può di fronte ai problemi di oggi pretendere che la Bibbia abbia lì in pronto la risposta per i nostri problemi estrapolare delle risposte da un testo che non è la soffiata di Dio la telefonata di Dio ma che è la testimonianza patriarcale prevalentemente di una fede vissuta in una particolare contingente datata cultura mi pare di una enormità dire che la Bibbia è tu cur parola di Dio mi sembra una bestemmia e devo dire che nelle MS cattoliche chi va sente che si legge supponiamo un bel salmo figlia di Babilonia beato chi stermina i tuoi figli e poi sente dire parola di Dio grazie tante parola di Dio oppure simile oppure si legge un brano del Vangelo parola di Dio parola del Signore ma c'è una redazione c'è una memoria c'è una scrittura no e tutto questo è uno dei problemi più urgenti e non vi parlo non vi parlo di un libro che è un libro di Barzellette secondo me l'ultima edizione del Catechismo della Chiesa Cattolica dovete comperarlo perché dal peccato originale a tutti i testi biblici io nella mia comunità lo metto sempre là perché quando abbiamo voglia finito un gruppo biblico di divertirci un po' andiamo a vedere cosa pensa l'ufficialità e la gente dice ma no tu hai letto male non è possibile che dicano ancora queste cose e mi sono trovato tanto per procedere anche un po' ai episodi a conferire il battesimo ad una persona che voleva che io bastezasse il suo figlio e ho detto al parroco mi dai il rituale posto mi sono incontrato con cacciare Satana le opere e ho detto al parroco no 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 io voglio fare una cosa di festa ringraziare il dio della vita ringraziare questi genitori per la carità di Satana o che non se ne parla tutte queste cose l'esorcismo ma ho detto ma qui siamo fuori dal mondo allora quando esiste un problema grande una delle possibilità è quella di cercare nella bibbia se c'è la risposta ed ecco una matrice fondamentalista fondamentalista una maniera tragica di allontanare dalla parola di Dio e di allontanare dalla fede questo è un grandissimo problema gli studi storici critici di genere hanno chiarito questo che è un impatto assolutamente proditorio falso rispetto al testo la bibbia è polifonica la bibbia ha tutta questa storicità questa contingenza degli autori ma noi cerchiamo nei tre passi il messaggio le dottrine storiche con cui si dice la fede e il dogma che cosa cerchiamo la chiesa cattolica è caduta nella prigione dogmatica io ricorderò sempre sai carissima pastora una cosa bella un libro che per te forse è stato anche fondamentale appello alla libertà che esman dice ci sono quelli che hanno mummificato la parola e invece assumere la storicità è una cosa bellissima quindi il dogma è la rovina quando si pensa di imbalsamare Dio di averlo nelle proprie tasche e non si capisce che anche la migliore interpretazione non è se non un accedere al mistero ineffabile accogliente amoroso di Dio per me questo adorare il mistero di Dio e nel lavoro biblico cercare di avvicinarmi non perché la Bibbia mi dia le risposte ma orienti la mia ricerca di fiducia mi responsabilizzi nell'essere un uomo laico che vive la responsabilità del proprio tempo della cultura del dibattito della ricerca dei dubbi dell'acquisizione dei diritti come mi piace questo pensare che il nostro tempo con le scienze la ricerca le audace gli errori come è la vita di ogni persona di ogni comunità ci ha regalato delle provocazioni e io penso che le nostre religioni debbano convertirsi non penso assolutamente la fine delle religioni no penso che l'ebraismo l'islam il cristianesimo altre siano in una fase di appello alla conversione dobbiamo proprio ripensare riandare al messaggio originario di liberazione di felicità di diritti di uguaglianza e scartare direi proprio liberarci ma non con rabbia ma con discernimento e umiltà e coraggio dalla struttura dogmatica ma voi fate un'idea pensate per me come cattolico no questo nome mi sta proprio stretto che qui abbiamo una pastora e i preti sono ancora tutti maschi ma la parola di Dio non ha le risonanze che potrebbe avere pensate che c'è ancora la barzelletta del pontificato romano no il papa infallibile per quanto sia bravo ma mi rincrese ma è la struttura che è malata e volete poi ridere un po' vi lascio qualche coppia delle ultime lettere che ho mandato al sinodo dei vescovi sapete come ho fatto? eh qui gli omosessuali mi sono stati preziosi siccome conosco bene un vescovo omosessuale e il suo segretario omosessuale attraverso una falsa firma gli faceva arrivare con il nome di un vescovo gli faceva arrivare ogni giorno una lettera una lettera lui poveretto pavoroso come era di essere scoperto però è riuscito a metterle nei tre gabinetti dei vescovi magari andando al gabinetto qualcuno l'ha letta no? quindi non ho avuto un grande successo in queste lettere però ho stimolato la creatività no? ebbene volevo dirvi che è in atto questo appello da parte di molti credenti di tutte le tradizioni io sono legatissimo ad un vecchissimo teologo americano che mi ha aperto gli occhi di cui conservo alcune lettere ed è un grande teologo che ha scritto con gli occhi della mente Cusher un grande ebreo che per primo negli anni settanta sposò a New York le coppie omosessuali io lo veni a sapere lo contattai fu una gioia immensa lui mi disse guarda in Italia tradurranno un mio libro con gli occhi della mente e l'ho preso subito e mi servì moltissimo la facoltà teologica valdese nel 78 mi offrì l'occasione di presentare le opere di McNeill eccetera ma vorrei dirvi una cosa che mi interessa molto in questo tempo io vedo dentro le chiese una grande bella rivoluzione che non appare ma che ha delle voci che si manifestano in Italia gruppi di omosessuali lesbiche transessuali credenti il grande aiuto sostegno la compagnia della chiesa valdese di altre esperienze ma vorrei dirvi soprattutto quello che mi interessa molto in questo tempo è soprattutto sono amicissimo legatissimo alla scuola francese del metodo storico critico sulla lettura del corano e sono legatissimo ad una teologa Asma Lambaret forse la più grande studiosa di questi temi e alla rivista Concilium la quale in questo numero ha pubblicato un articolo sulla corporeità nell'islam per far vedere un'alternativa della lettura e soprattutto pubblicando alcuni degli insegnamenti del profeta in cui si diceva espressamente alla moglie che vanno accolti gli omosessuali è una pubblicazione che molto raccomando le citazioni le pubblicazioni che compariranno presto in Italia quindi dentro le varie tradizioni se un libro posso consigliare gender di tutti i femminismi del mondo islamico siccome ho alcuni membri della mia comunità che si sono sposati e sono andati in Francia e uno si è sposato con una donna islamica o una biblioteca ormai mezza islamica e quindi sono affascinato da queste letture che mi mandano c'è una forza rivoluzionaria dove donne e omosessuali hanno fatto un'alleanza per leggere il Corano e per creare un movimento bene undici anni fa sono stato invitato a Marsiglia clandestinamente ma mi hanno dato un fatto proprio una testa di privilegio ad un gruppo di omosessuali e lesbiche uniti volete capire che per loro è stata una grande cosa mi sono meravigliato ho detto qui comincia anche nel Corano nell'islam una grande speranza e ormai queste teologhe lavorano su questi terreni da 40 50 anni quello che voglio finire dicendo è che c'è da coltivare una speranza mentre da una parte c'è compiere una lotta contro i fondamentalismi l'ignoranza la regressione e non c'è mai da cantare vittoria però le nostre tradizioni sono radicate nel diritto e nell'uguaglianza e per chi è credente nell'amore accogliente inclusivo di Dio e sono delle tradizioni che vogliono e possono sfociare nella laicità ricordo un grande libro di un mio amico morto Giuseppe Barbaglio la laicità del credente quando il credente non scende nella vita a declinare coniugare laicamente il messaggio centrale della sua fede annulla il suo messaggio io vorrei dire che leggo con piacere sapete che nasce a giugno la prima facoltà islamica in Italia che belle cose ma se ne parleremo ancora magari un po' domani ebbene vedo dentro le nostre tradizioni con tutte le contraddizioni vedo una grande speranza sarà che diventando vecchi si diventa ottimisti vedrete voi si vede di più il rosa i colori si ama molto la vita perché si sente che alla fine io più divento vecchio più cerco di calamitare le cose belle le speranze i sogni i desideri l'utopia poi so bene che bisogna camminare con i piedi per terra però credo che questa cosa sia bella lottiamo laicamente fino al matrimonio paritario senza concedere nulla a chi vuole togliere questo diritto ma nello stesso tempo incoraggiamo ovunque ci sono germi di futuro perché il futuro sta un po' nelle nostre mani se ci crediamo davvero e se politicamente culturalmente diffondendo cultura audacia speranza fede fiducia ci aiutiamo gli uni gli altri per qualche passo di responsabilità e di cambiamento grazie avrei da fare due considerazioni allora Don Barbero parlava della Bibbia o diciamo dei libri dei libri considerati sacri come se non fossero la vera parola di Dio perché come dicevamo prima i libri sono stati scritti da uomini ora il il ragionamento è che l'oppressione che le chiese io uso il termine le chiese l'oppressione che le chiese con eccezioni naturalmente hanno prodotto sulle donne e sulle persone omosessuali è frutto però di quegli scritti perché gran parte di quell'oppressione viene recuperata da interpretazioni da scritture da parole che sono comunque contenute all'interno di quelli che vengono definiti i libri sacri una delle considerazioni che oggi e quindi in questo contesto ovvio che le donne prima e gli omosessuali dopo in una unione poi successiva o in un tentativo di unione successiva lottano tutti i giorni contro questo questo tipo di oppressione perché le chiese sono veramente tantissime anche all'interno del mondo cristiano sono tantissime e quasi tutte considerano le donne o consideravano poi qualcuna si è riformata però quasi tutte considerano consideravano le donne e soprattutto gli omosessuali come il male assoluto mi viene da pensare ai mormoni per esempio quindi insomma che sono magari in Italia non sono così numerosi ma negli Stati Uniti erano e sono numerosissimi anche loro hanno fatto un'evoluzione a parte qualcuno insomma però tornando all'oppressione e arrivando alla pastora della chiesa valdese che ha celebrato il secondo matrimonio valdese italiano di due donne a Roma nel 2013 se non ricordo male e parlando di matrimonio perché prima parlavamo della questione delle unioni civili in discussione insomma questa situazione così un po' retrograda che ancora ci troviamo a dover discutere vi chiedo c'entra anche moltissimo il potere da questo punto di vista perché l'oppressione verso le donne e verso gli omosessuali è anche come dire ribadire confermare un potere un potere che è sulle persone e anche un po' sulle anime per quanto riguarda le chiese quindi se io non ricordo male però insomma i miei studi sono un po' un po' antichi a questo punto se io non ricordo male il matrimonio come sacramento per la chiesa cristiana per la chiesa cristiano cattolica è arrivato nel dodicesimo secolo perché nella Bibbia non si fa cenno al matrimonio come sacramento e per Bibbia intendiamo l'antico testamento che comunque è comune anche a tutto l'ebraismo quindi il sacramento quello che oggi noi stiamo discutendo tenteremo di discutere aprendo un dialogo anche con la chiesa cattolica e con le gerarchie cattoliche che in alcuni casi ci è proibito fondamentalmente e come un meccanismo come quello di rendere sacro il matrimonio possa essere arrivato undici secoli dopo più o meno undici secoli dopo la scrittura delle parole di Dio ora a questo naturalmente la risposta è un po' scontata la domanda che mi viene da fare è sempre la stessa per tutto quello che a me è dato sapere in tutte le fedi in tutte le fedi la figura di Dio è una figura di amore o dovrebbe essere una figura di amore di amore assoluto ora come si può immaginare che i rappresentanti di quel di quel Dio lo dice un militante omosessuale che non ha avuto il dono della fede ecco però come è possibile che quell'amore assoluto venga rappresentato con l'odio da parte dei suoi rappresentanti sulla terra e questa è una domanda che va oltre tutte le questioni teologiche secondo me è rappresentata solo dal potere però insomma siccome la pastora ha celebrato il secondo matrimonio valdese il secondo matrimonio eh egualitario quello che oggi chiameremo matrimonio egualitario se ce l'avessimo nel 2013 lasciamo la parola a lei che ci racconterà la sua esperienza grazie io sono molto felice di essere stata invitata a questo congresso convegno perché credo che sia uno spazio di libertà di riflessione di serietà che purtroppo è un po' confinato nel nel cuore del diciamo nel cuore basso della dell'università anche se la sala è molto bella però per arrivarci diciamo che senza guida è un po' allora purtroppo io non ho celebrato il secondo matrimonio valdese o come vogliamo ho semplicemente celebrato la seconda benedizione di unione di due sorelle lesbiche della chiesa valdese perché il matrimonio non c'è non c'è nessuna non è riconosciuto dallo stato e dunque non è nel senso che tra l'altro per i valdesi comunque il matrimonio è una non è un sacramento quindi è un atto civile un atto pubblico e quindi esiste solo il matrimonio fatto davanti alle autorità civili di fronte allo stato e noi poi possiamo in chiesa pregare per gli sposi riconoscere la benedizione di Dio su di loro e quindi abbiamo esteso con una certa fatica a dire la verità perché non sono tutte rose e fiori neanche nel protestantesimo da questo punto di vista nel 2010 abbiamo nel sinodo della chiesa valdese e metodista nel 2010 fatto un atto che ho portato di apertura alle benedizioni delle coppie gay e lesbiche il che è stato molto difficile vorrei partire di qui perché appunto noi abbiamo una lunga tradizione di laicità e di differenza tra la religione e lo stato e non vogliamo normalmente commistioni per cui quello che è dello stato è dello stato e quello che è della fede riguarda la fede per cui per esempio noi siamo stati sempre contro quello che sancisce il concordato tra lo stato italiano e la chiesa cattolica cioè l'insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado della religione cattolica proprio perché abbiamo sempre sostenuto che la religione va insegnata in chiesa nelle chiese di chi ci crede nelle famiglie diciamo fa parte del patrimonio che vogliamo trasmettere agli altri e la scuola è la scuola ora da negli ultimi 40 anni è molto cambiato tutto questo quindi probabilmente la scuola dovrebbe attrezzarsi con un insegnamento del fatto religioso della storia delle religioni dell'influenza della religione nella cultura dalla letteratura al cinema è fortissimo però diciamo per spiegarvi come è stata la nostra posizione quindi per la prima volta abbiamo discusso molto è stato un signore molto difficile perché si diceva ma se noi apriamo alla benedizione delle coppie omosessuali poi che facciamo di quello che noi abbiamo sempre detto e cioè che i nostri atti pubblici sono di fronte allo Stato e poi preghiamo allora adesso e infatti adesso sta arrivando se ci sono delle coppie eterosessuali che non vogliono sposarsi non ritengono che il matrimonio corrisponda a loro ma vogliono una benedizione della chiesa per la loro loro amore cosa che noi abbiamo sempre escluso prima proprio per che cosa faremo visto che c'è non si può discriminare poi le coppie eterosessuali avendo aperto quindi adesso questa è la questione che noi stiamo trattando che dovremmo trattare perché allora capite che si ribalta tutto e quindi questa è una bellissima cosa perché vuol dire che finalmente abbiamo un nuovo punto di vista da cui rileggere anche le nostre tradizioni allora nel protestantesimo se posso fare una brevissima storia questa questione diciamo in seno alle chiese protestanti italiane alla chiesa valdese in particolare sono una trentina d'anni che seriamente si affronta l'argomento non di più quindi poco molto poco e e sono una decina d'anni che ci sono dei documenti un po' seri su questo tema ci sono stati gruppi di lavoro ci sono state commissioni però il problema grosso in seno al protestantesimo era esattamente la parola di Dio siccome il protestantesimo si è sempre caratterizzato come il popolo della Bibbia intendendo per Bibbia primo secondo testamento e la Bibbia è l'unica l'unica autorità nella fede nel senso che appunto non c'è gerarchia non ci sono non ci sono non c'è la tradizione della Chiesa in senso autorevole anche se poi naturalmente i nostri padri che sono i riformatori vengono molto utilizzati allora la la riforma ha due cose uno la riforma protestante del Cinquecento ha abolito ovviamente il il clero e tutti gli ordini monastici ha con con l'idea forte che la chiesa diciamo la vita della fede è una vita consacrata ma laica e quindi va vissuta nella condizione della vita di tutti e il matrimonio era per eccellenza la condizione di vita pubblica diciamo e quindi ognuno doveva sposarsi perché quello era la sua responsabilità era avere una famiglia avere dei figli rispondere del della propria vocazione anche in quel quadro e compresi i pastori che hanno anche se hanno un momento di consacrazione rimangono laici e dedicano la loro vita come diciamo come un insegnante nella scuola hanno i titoli perché hanno studiato hanno fatto gli esami hanno preso la laurea hanno studiato in Italia e all'estero e quindi hanno i titoli per essere abilitati al ministero pastorale ma rimane sempre un ministero laico allora questa questione del matrimonio è il matrimonio biblicamente fondato è nell'unico versetto che c'è ma insomma Genesi è il grande fondamento del matrimonio secondo la lettura di ebrei e cristiani quindi il fatto dell'incontro tra uomo e donna della diversità dei generi in vista della procreazione e con la benedizione di Dio allora questo fatto ha costituito direi il freno maggiore nella comprensione per cui l'apertura verso le persone omosessuali nella chiesa è venuta prima come apertura verso gli emarginati i minimi il discorso di Gesù nei confronti dei peccatori delle delle prostitute delle persone emarginate all'inizio diciamo nella nella fede in cui Gesù opera e allora diciamo questo è un discorso che si capiva bene quando c'è una persona emarginata bisogna vincere l'emarginazione ma questa è stata la strada alla quale siamo arrivati a una nuova comprensione teologica anche delle scritture e dove finalmente attraverso molte commissioni anche di studio biblico che adesso non vi non vi tedio però si è riuscita a leggere il libro di Genesi come il libro dell'alterità per cui di fronte a Dio le persone sia i due generi ma anche ogni persona è è altra rispetto all'altro e allora l'unione di due alterità di fronte a Dio crea comunione questa è la sintesi di di 30 anni di riflessione biblica allora siamo questi due canali si mantengono sono rimasti aperti cioè da un lato l'accoglienza delle di tutte le diversità diciamo la conciliazione la riconciliazione fra fra diversità considerate ostili per cui io vi posso garantire che effettivamente la riflessione di delle donne e la riflessione in campo omosessuale sono andate di pari passo le donne è finita un po' prima ma non è mai finita io sono stata nella mia vita mi è capitato di essere la prima in qualche cosa in un paio di cose la prima volta che è stata eletta una pastora in una chiesa autonoma le chiese valdesi sono siamo quattro gatti ma insomma in questi quattro gatti ci sono quelli un po' più grandi e quelli un po' più piccoli allora la chiesa di Roma è una chiesa autonoma perché ha più di 150 membri all'epoca ne aveva 400 e quindi si elegge il pastore invece le chiese piccole lo ricevono dall'amministrazione della chiesa dal governo della chiesa quindi si doveva votare questa cosa io con mille problemi difficoltà ero giovane avevo un bambino piccolo quindi mi sentivo molto inadeguata però la chiesa mi chiese di candidarmi e quindi alla fine mi candidai e io ho letto i pastori stanno in carica sette anni e possono essere rieletti per altri sette e poi se ne vuole andare allora io non ho mai letto prima del rinnovo della mia elezione il verbale della prima assemblea che discuteva se elegge il mio o no perché volevo rimanere imparziale nei confronti della comunità mentre se avessi letto un intervento particolarmente sgradevole probabilmente non avrei avuto la libertà ma lo ho letti dopo però dopo sette anni quando sono stata eletta per la seconda volta sono andata a leggere questi verbali e mi ha molto colpito ma non ve la faccio lunga il fatto che ci fosse bisogno di qualcos'altro perché potessi essere eletta come pastore cioè ho sentito interventi di persone che mi sono anche amiche dopo ho capito ah no lei è giovane certo è giovane è una donna è un bambino però il marito insegna teologia quindi c'era c'era comunque un qualcosa è giovane però è laureata anche in filosofia quindi diciamo la cultura come se ci fosse bisogno per fare un pastore di almeno due o tre altre cose che i maschi non avevano bisogno di dimostrare per poter essere normali cioè essere accedere a un ministero avendo i titoli per farlo ci voleva qualcosa in più e così questa è questa è la storia questo è ancora un po' è ancora abbastanza molto meno di un tempo è molto più normale essere pastore donne c'è stato persino qualche chiesa per esempio la chiesa di Como una quindicina d'anni fa quando doveva eleggere il suo pastore l'ha cercato solo fra donne questa è stata una prima volta che è stata una cosa simpatica allora il matrimonio è stata quindi una tradizione forte nel protestantesimo molto forte nel protestantesimo e diciamo le sue radici affondavano nella Bibbia la parola di Dio è l'unica autorità spirituale morale per la fede degli evangelici protestanti e quindi la parola di Dio era lo scoglio c'era c'era l'invettiva di Paolo nella lettera ai romani c'erano tutti i divieti nel primo testamento nella Torah quindi insomma non era semplice superare queste cose qui appunto pur senza essere fondamentalisti però era abbastanza fondamentale che ci fosse che si trovasse una un'apertura nella Bibbia e questi divieti espliciti pur avendo capito che che la Bibbia non conosceva l'omosessualità come condizione ma solo come scelta pervertita come scelta idolatrica i culti greci tutto questo però questo è stato lo scoglio uno l'altro scoglio è il pregiudizio che è diffuso in moltissimi io ricordo appunto appena diventata pastore a Roma nel 90 che ho saputo dopo che il vescovo di Roma mi aveva mandato un gruppo di P gay che volevano fare delle preghiere radunarsi per per dire le ore per pregare e non avevano trovato un posto nella loro chiesa e ho saputo dopo perché si sono venuti si sono presentati e poi noi li abbiamo accolti però dopo ho saputo che era stato Monsignor Riva il vescovo di Roma allora un uomo illuminato come non ne ho più conosciuti di vescovi che diceva andate dai valdesi vediamo e quindi questa era stata allora la discussione nel consiglio di chiesa della chieda valdese di Roma nel 1990 era stata per dire il pregiudizio io avevo posto la questione per poter dare la sala in uso e qualcuno aveva detto si si va bene purché non sia vicino cioè un orario che confini con la scuola domenicale che è la formazione dei bambini allora io mi ero molto risentito ho detto ma si sta parlando di omosessuali non di pedofili sarebbe come dire che c'è una riunione del comitato Pinco Pallino ma non deve stare vicino alla formazione delle bambine perché sono sono stupratori cioè dico non ha senso questo però questo era l'argomento era il mood il sentire quindi è molto 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 si è dovuto lavorare tanto e certamente ci sono ancora importanti sacche di pregiudizio di resistenza detto questo però alcuni passi sono stati fatti e cioè la considerazione che Cristo ha accolto noi e noi dobbiamo e quindi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri come dice l'Apostolo Paolo che ha detto anche di buone di cose e questa è stata la partenza di ogni cosa io vi posso leggere un documento del 2007 che è il sinodo congiunto valdesi metodisti e battisti che è un'altra chiesa protestante che è una specie di confessione di fede vado molto veloce l'assemblea riunita crede in un dio d'amore che per primo ci ha accolti chiamandoci ad una vocazione all'accoglienza nello spirito del passo di Romani che dice perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio 2 crede che l'essere umano sia fondamentalmente un essere in relazione con Dio e con il suo prossimo e che la relazione umana d'amore vissuta in piena reciprocità e libertà sia sostenuta dalla promessa di Dio esprime apprezzamento per il fatto che molte chiese locali associazioni regionali battiste circuiti valdesi e metodisti abbiano affrontato sulla base del documento prodotto al gruppo di lavoro fede omosessualità incontri congiunti il tema dell'omosessualità serenamente senza proclusioni e pregiudizi mentre confessa il peccato della discriminazione delle persone omosessuali e delle sofferenze imposte loro dalla mancanza di solidarietà condanna ogni violenza verbale fisica e psicologica ogni persecuzione nei confronti di persone omosessuali invita tutte le credenti e tutti i credenti a sostenere quelle iniziative tese a costruire una cultura del rispetto dell'ascolto e del dialogo invita le chiese ad accogliere le persone omosessuali senza alcuna discriminazione invita le chiese nell'ottica di uno stato laico a sostenere e promuovere concretamente progetti e iniziative tese a riconoscere i diritti civili delle persone e delle coppie discriminate sulla base dell'orientamento sessuale auspica che il confronto e la riflessione informati ad una lettura approfondita ed esegeticamente attenta della scrittura proseguono ancora nel futuro partendo dal riconoscerci sorelle e fratelli nella comune fede in Gesù Cristo vedete che è richiamata la scrittura l'esegesi cioè il fatto che c'è una distanza tra la biblioteca che è la Bibbia che trattiene circa 600 anni di storia e di testi scritti a noi quindi però per noi la Bibbia è parola di Dio cioè rimane il luogo in cui cerchiamo l'orientamento senza fondamentalismi sapendo che bisogna leggere la storia studiare i testi criticamente però è molto importante che noi cerchiamo le radici dell'accoglienza reciproca del rispetto profondo e ci sono ci sono ci sono anche un sacco di cose che dicono altre cose però ci sono anche queste per fortuna e bisogna trovarle quindi io credo che lo stesso atto che se poi volete se c'è tempo vi posso leggere sulla benedizione delle coppie è stato un atto che diciamo ha un po' forzato in avanti proprio perché non c'era una legge probabilmente ci fosse stata la legge sul matrimonio gay non avremmo fatto non ci sarebbe stato bisogno posso dire così e questa è stata l'ambiguità denunciata da molti di dire voi fate una spinta in avanti noi non appunto non abbiamo siamo sempre stati leali con lo Stato però io credo che fosse necessario dire una parola di apertura sperando che lo Stato italiano a un certo punto arrivi ad adeguarsi ora quello che è uscito con questa è meglio di niente ma certamente tutto il dibattito sulle adozioni è stato veramente umiliante umiliante brutto perché appunto pieno di di riproposizioni di pregiudizi vecchi che però albergano ancora molto nella società civile italiana e che quindi basta stuzzicarli che ritornano fuori in modo orribile devo dire anche che molta della e mi fermo molta dell'apertura è dovuta all'avere conosciuto persone omosessuali che a un certo punto sono entrate molte nelle nostre chiese probabilmente c'era qualche chiusura più forte da qualche altra parte per cui sono arrivati hanno fatto il catechismo noi facciamo una formazione erano interessati erano interessati anche al protestantismo insomma queste due cose sono andate e quindi il fatto che le comunità anche le persone più anziane abbiano di fatto conosciuto nelle file delle loro parrocchie persone esattamente come loro addirittura io mi ricordo una coppia di che sono siamo rimasti molto amici a Roma c'erano due giovani che erano si erano avvicinati alla chieda tre anni di formazione sono entrati diventati valdesi erano due buoni partiti perché avevano dei buoni lavori non lavorava in banco a un certo punto c'erano delle famiglie che presentavano in qualche modo li invitavano per far conoscere le figlie non avendo ben chiede erano due giovani di bella presenza sistemati e quindi perché no allora a un certo punto loro non avevano detto questa cosa anzi a me mi hanno telefonato due giorni prima del momento di ingresso in chiesa per dire dobbiamo dirti una cosa e allora dico ditemi siamo visti noi siamo una coppia gay io lo so da tre anni non mi meraviglia assolutamente abbiamo parlato di tante cose voi non lo avete mai detto ma loro avevano paura di imbrogliare insomma di non apparire sinceri e loro che è una stranissima posizione sono gli unici che conosco perché poi tante altre coppie invece si sono palesate e sono state accolte bene lo sanno tutti nella comunità che loro sono una coppia sposatissima perché stanno insieme da venticinque anni uno di loro dirige il bazar dell'unione femminile che è il banchetto diciamo si fa un mercatino natalizio pieno di cose lui si prende una settimana di ferie fa panettoni biscotti perché è bravissimo in cucina tutti sanno tutto e loro vivono serenamente nella chiesa e loro dicono perché noi dobbiamo dire noi non siamo diversi dagli altri siamo uguali a tutti gli altri credenti e siamo una coppia e non ci interessa di doverlo dire allora loro sono così altri hanno detto altre cose però il conoscere le persone abbatte abbatte tantissimo i muri è sbagliato perché bisognerebbe poterlo fare anche in teoria però questa è la nostra storia questa è la storia dell'aver preso forse anche la mia il fatto di che i pregiudizi si sono abbattuti da un immaginario al fatto che le persone sono tutte uguali insomma e quindi non possono che essere accolte e poi bisogna anche smettere di parlare solo dell'omosessualità con loro perché se parlare delle cose delle lotte della politica di filosofia di teologia di tutto di umanità perché non è che sono specialisti in gaytudine sono persone e quindi grazie grazie a lei resta il fatto che così in un'altra nuova dimostrazione l'essere visibili è davvero fondamentale parlare con le persone farsi conoscere è davvero fondamentale è uno degli scopi del Pride in tutto il mondo in tutta Italia è proprio quello di lavorare sulla visibilità delle persone aiutare le persone a non sentirsi sole perché il vero problema diciamo della partenza dell'essere omosessuali è quello di sentirsi soli nel mondo e quindi in questo senso il nostro lavoro va in questa direzione sempre e poi il dialogo è fondamentale a proposito di fondamentalismi a volte i fondamentalismi molto spesso uccidono le persone omosessuali e anche le donne ma a volte non non vieni ucciso ma fisicamente ma vieni umiliato esattamente come tutta la discussione sul insenato che c'è stata è stata estremamente umiliante per tutte le persone LGBT d'Italia e del mondo il discorso di quale sia il canone biblico anche negli ebrei è una forte discussione tra i samaritani antica quindi dire bibbia e dare noi dall'esterno una numerazione e un territorio linguistico e storico diventa difficile è una contesa aperta dentro l'ebraismo per esempio tuttora io vedo ricevendo alcune riviste da che l'altra c'è proprio questa discussione che è bella quindi il territorio biblico non è ancora ultimato ma questo avvenne nel cristianesimo ci vogliono secoli fino al sedicesimo secolo e io ritengo che questa discussione sia anche bella perché relativizzi un po' la testualità non so come dirvi non che la butta la relativizza la seconda cosa è che io per esempio venendo da una tradizione cattolica in cui si diceva che il prete sposa quando raggiunsi 340 benedizioni di coppie opossessuali pubblicai ma perché volevo citarvi questo quindi ho presi poi la prima scelta fu il 4 febbraio del 78 quando dissi basta parlare qui devo far qualcosa no? ma sapete che mi sono rivolto a tutti gli editori cattolici no? perché volevo anche fare una prova e mi dissero Don Franco troppo adesso ti abbiamo pubblicato qualcosa va bene parlare ma adesso fare questo ma voi non immaginate mai più chi è intervenuto non faccio i nomi dei preti preti molto celebri i quali mi hanno preso per la cravatta e mi hanno detto ehi là parliamo anche noi dell'omosessualità ricordo quando ero a Genova ma Don Franco ti devi fermare io parlo a paura degli omosessuali ma non do la benedizione di Dio e ho avuto i migliori amici più noti che mi hanno di Torino di Genova che mi hanno detto questo non si fa e e quindi tutto un discorso sotterraneo ma dovessi documentarvi nomi e cognomi è una storia interessantissima perché non si toccano i sacri canoni mi capite per cui dovete ridare ad una editore francese l'armattan eccetera ma è proprio il segno della censura che esiste dentro la possibilità di canalizzare un discorso invece ricordando al bell'intervento sul linguaggio io credo proprio che questo è un grande problema che riguarda non solo la Bibbia ma riguarda la liturgia la catechesi la predicazione io credo che quando celebro spesso ancora delle eucaristie delle messe anche nelle parrocchie devo ripetere il credo di Ceno Costantinopoli sono in difficoltà ma non tanto pensando a Costantinopoli sono in difficoltà a pensare che lo ripetiamo noi oggi loro a quel tempo inventarono un loro modo in modo creativo anche in modo interessante con la lingua di allora noi oggi ripetiamo dei cadaveri mi capite in che senso linguisticamente dei cadaveri allora questa problematica del linguaggio mi interessa molto lascio qui a qualche amico che si è interessato questo piccolo libro che ho scritto proposte al popolo di Dio e mi interessa molto mi interessa molto questo del linguaggio perché quando sento alcuni per esempio morto per i nostri peccati Gesù o alcuni altri linguaggi Dio vero da Dio vero cosa capisce la gente quello era un linguaggio che aveva forse un suo senso ma oggi che senso ha quando parliamo di Satana ad ogni pie sospinto almeno nella chiesa cattolica la tribulation quando allora la questione del linguaggio a me sembra talmente fondamentale che se non prendiamo sul serio le istanze critiche della semiotica di oggi almeno nel nostro occidente non c'è ponte la predicazione non comunica più perché davvero alcuni linguaggi per una donna un uomo adulto consapevole sono dei linguaggi tramontati io che ho rispetto quasi venerazione per i linguaggi della tradizione non amo però il tradizionalismo e la forza di inventare nuovi ed esperimentare percorsi linguistici nuovi nella catechesi e nel linguaggio della predicazione la trovo decisamente interessante una provocazione da accogliere sì il linguaggio è davvero importante secondo me manca però un tassello a tutto questo nel senso che la liaison tra le chiese e il potere perché questo in qualche modo manca quando la pastora prima diceva della loro contrarietà al concordato per esempio quello è sintomatico di un potere il concordato che i valdesi per esempio non hanno voluto adesso probabilmente c'è il 5 per mille per i valdesi insieme ad altre confessioni però l'8 per mille chiedo scusa però c'è una liaison con il potere faccio un esempio che è attualissimo e non parlo di paesi islamici perché sui paesi islamici verrebbe troppo semplice vi parlo della questione della comunità LGBT nei paesi baltici e nella Polonia come voi tutti sapete la Russia che insomma è all'avanguardia rispetto ai diritti civili ha fatto questa legge contro la propaganda gay perché appunto insomma non si capisce bene perché ma il grande supporto si 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 capisce benissimo ma il grande supporto a quella legge arriva dal patriarca ortodosso quindi la chiesa in questo caso un altro pezzo di chiesa cristiana perché gli ortodossi sono cristiani si è affiancata se non addirittura come dire ha promosso questo genere di intervento legislativo quindi la situazione nella Russia la conosciamo una situazione di grande pericolo di grande discriminazione e tutte le volte che in Russia accade qualcosa del genere la Russia riesce ad esportare diciamo tutte le cose più belle e quindi anche in Polonia e nelle Repubbliche Baltiche si sta verificando la stessa cosa persone che prima erano libere di manifestare di protestare di chiedere dei diritti oggi lo sono molto meno e il rischio è di arrivare alla stessa situazione della Russia ora è emblematico il fatto che soprattutto nelle chiese cristiane cattoliche della Polonia che come tutti sappiamo essendo la patria del santo papa scomparso la Polonia è un paese molto cattolico molto cattolico i preti nelle chiese stanno in questo momento in questo periodo stanno predicando contro le persone omosessuali nelle chiese quindi non esiste ancora una legge in Polonia che proibisca quella che loro hanno definito la propaganda omosessuale ma si incomincia nelle chiese i parroci delle chiese che sono tutte molto gremite in Polonia io ci sono stato da poco e sono davvero tutte molto gremite i parroci cominciano a fare questo genere di propaganda ora la liaison con il potere è cosa fondamentale e bisognerebbe che tutti diciamo quelle che io chiamo le gerarchie capissero che questo non è soltanto sintomatico di un potere ma è allontanarsi da quella che è la parola di Dio perché voi ci dite tutti compresi gli islamici che Dio è amore questo non ha niente a che fare con l'amore dunque volevo dire due cose una per chiarire il liaison diciamo la chiesa valdese ha un'intesa con lo stato italiano che era prevista dalla costituzione e che è stata attuata soltanto nella prima volta nel 1984 con la chiesa valdese poi l'hanno avuta gli ebrei poi altre chiese c'è stata una grande discussione prima di accedere a questo diciamo l'intesa era molto desiderata per regolare i rapporti con lo stato poi l'intesa dopo quelli dell'intesa c'è stato tutto il tema dell'otto per mille che noi abbiamo discusso per tre anni perché c'era una parte importante della chiesa valdese che non voleva prendere l'otto per mille perché è una legge clericale fatta per mantenere la chiesa cattolica per mantenere il clero e quindi e poi era solo una chiesa solo chiesa allora invece poi c'è stato un dibattito parlamentare che ha aperto ad altre chiese e quindi c'è stato offerto l'otto per mille alla chieda valdese c'è stata una prima votazione contraria nel 91 mi pare e nel 92 si è ridiscusso e poi c'è stata a prevalso la maggioranza a favore e allora lì si è deciso di prenderlo ma di non prenderlo per pagare i pastori le chiese eccetera ma per opere sociali e culturali quindi questa è l'iter della nostra partecipazione poi si può discutere ma non è questa è la sedia invece sulla Bibbia io mi permetto di sentire perché nell'ebraismo io non è che sia esperto ho studiato ebraico per studiare i testi ma non lo conosco così bene né conosco così approfonditamente la cultura ebraica però diciamo quello che tu hai chiamato Bibbia è la Torah cioè i primi cinque libri quello che poi viene chiamato la legge e quando si cita la Bibbia è la legge e i profeti quindi queste due tradizioni poi ci sono gli scritti poi ci sono tante altre cose però per noi è sempre stato un punto d'onore come protestanti di chiamare Bibbia tutto tutti i testi sacri primo e secondo testamento mentre sentivamo sempre chiamare dai cattolici Bibbia solo il primo testamento la Bibbia per noi è sempre stata tutte e due diciamo i testi sacri dall'inizio alla fine mentre chiamiamo e chiamano gli ebrei Torah i primi cinque libri della Bibbia cioè quelli che contengono la legge quindi Deuteronomio l'Esodo poi ma guarda Papa Francesco quando parla contro le armi contro la disumanizzazione quando parla sinceramente credo che non reciti di capitalismo lo trovo veramente un fratello nella fede ma come sapete io non sono gradito nella Chiesa perché sostengo che il Papa non è all'altezza di alcune situazioni che oggi l'Evangelo chiederebbe primo rompere il concordato denunciarlo basta non sei un capo di stato secondo eliminare la struttura militare della Chiesa Cattolica ieri ho messo sul mio blog cosa prende il generale corpo d'armata uno scandalo uno scandalo militarizzare il servizio pastorale e poi sulla posizione delle donne nella Chiesa non avere pari opportunità di ministero eliminare la struttura sacrale sacrale perché si deve passare dal sacerdozo gerarchico al pastorato la scelta della riforma l'anno prossimo faremo i 500 anni credo che ne parleremo insieme di queste cose allora ci sono gli omosessuali le donne lui chi sono io per giudicare è un atteggiamento simpatico capite lo credo anche molto sincero molto sincero ieri è uscito in Vaticano una rivista mensile fatta confezionata e scritta da sole donne anche questo è interessante però ci vogliono dei nodi e tutti mi dicono ma tu hai troppa fretta sai ci sono i lupi vaticani ma sì certo che ci sono i cardinali sono lupi vaticani feroci perché poi ho scoperto che il lupo è più buono di quando non si pensi quelli sono abbastanza feroci ma il vero problema è però che io mi ricordo quando fui al primo processo ecclesiastico del 73 74 i 5 giudici 4 ore per 5 sedute e mi dicevano tu devi dar tempo alla chiesa gli omosessuali magari dico mi può fare un'ipotesi per Galileo ci avete impiegato 500 anni ce ne vorranno e gli omosessuali di oggi devo dirvi attendete 500 anni allora io credo per due motivi primo che una vera rivoluzione avviene nella chiesa dalla chiesa comunità vi capite gente che laici donne uomini e molti lavorano in questa direzione l'attendismo di un rivoluzionario dall'alto questo notate non significa che io non valorizzo il messaggio sociale umanizzante di Papa Francesco lo vedo anche con voi c'è stato un ecumenismo interessante di alcune cose belle però su alcune questioni è inutile che dicano non è tempo no siamo già fuori tempo ma fuori tempo di secoli bisogna avere il coraggio anche di alcune rotture io dico questo con tutto amore per la persona ma sento l'urgenza il regno di Dio è qui mi capite in che senso cioè a Gesù avrebbero potuto dire a Candy no mi capite allora c'è il momento dell'attesa ma c'è il momento della decisione ma scusate nella mia comunità abbiamo fatto una riflessione durante il sinodo se quattro donne della mia comunità quattro uomini della mia comunità ma lo dico con umiltà ma dico se fossero radunati due giorni anziché ventun giorni avrebbero preso delle decisioni ma molto più chiare limpide coraggiose se si fosse stato tu o tu della Gedo se si fossero state alcuni ma ma signori miei è tempo di alcune decisioni allora apprezzo tutto il bene ma non riposiamo sull'illusione papalina mi capite in che senso dobbiamo combattere nella società e nelle chiese per chi è credente perché non ci viene regalato perché l'istituzione c'è un motivo deve mettere in gioco se stessa deve veramente destrutturare un suo potere e questo è il punto lui su questo non c'è non ha la cultura non ha il coraggio non ha la possibilità non credete che io voglia giudicare ma è tempo di capire che bisogna cogliere la voce della strada della coscienza della scienza faccio un esempio solo la famiglia ma quando sento che questi qui parlano della famiglia io che ogni giorno vivo proprio in mezzo alla strada voglio dire con molte comunicazioni quotidiane ma loro non hanno l'idea di che cos'è la famiglia ma aggiornatevi io ho mandato ai padri conciliari i libri di Chiara Saraceno ho detto leggete qualcosa la sera dopo cena mettetevi a fare qualche buona lettura non leggete la vita di Sant'Ignazio leggete Chiara Saraceno allora ci sono delle cose che sono insopportabili le donne non possono sentirsi dire tu non sei abile al ministero ma siamo fuori della storia nella magistratura nelle professioni nelle chiese cristiane che hanno qui c'è il grande problema però che il dialogo si fa facilmente con gli ortodossi si fa meno facilmente con la riforma capite su questo e devo dire alludendo brevemente che la teologia ortodossa la cosiddetta sinfonè la teologia della sinfonia è esattamente questo che si crea veramente un bel rapporto per tutta la chiesa quando il potere politico e il potere ecclesiastico vanno a braccetto loro si che si sposano indissolubili questo è il grande problema che Putin sta incentivando e che le chiese ortodosse purtroppo non riescono a sciogliere c'è una sinfonia matrimoniale mi capite a doppio mandato questo è un grande problema dell'ecumenismo cristiano dovessimo fare un concilio pan cristiano come da volte voci si sente ci sono dei problemi però io voglio dire concludendo il tempo è breve apprezzo tutto il bene ma non chiudo gli occhi di fronte ai ritardi storici che la coscienza nuova dell'umanità che le scienze ci dicono che i cristiani dentro le chiese io ho fatto 20 lettere al concilio ma sapete una delle prime lettere l'editore cattolico mi ha detto ah non te lo pubblico non te lo pubblico me ne sono pubblicato mille copie le sto diffondendo vendendo più che un editore ho detto ma guardate cari padri conciliari voi stasera dopo cena leggetevi qualche cosa un po' fuori ma lavatevi le mutande lavatevi la camicia stirate cominciate a vivere quella che è la nostra umanità lavate i piatti le cose che facciamo tutti tutti i giorni che però sono un principio ermeneutico straordinario io trovo che l'ermeneutica della vita è un'ermeneutica alternativa a questa bisogna prima di tutto partire da questa umanità loro la segregate ma lì vedete tutti la pumpa d'oro parlano delle giovani famiglie tutti dai 70 agli 85 ma abbiate pazienza ci sono alcune cose che non stanno in piedi con la storia dobbiamo avere un po' di ironia un po' di ironia ma faccio un esempio tutti i discorsi che si fanno nelle diocese separati e divorziati dopo 50 anni hanno capito magari di invitare una separata o una divorziata ma la vanno a cercare tra quelle penitenti mi capite fanno tutto un percorso ma facevamo riunioni di prete infinite tutti con o non sposati o con moglie nascoste e ho detto ai padri io so che qualcuno ha la moglie nascosta dico voi dovete parlare della famiglia tenete la moglie nascosta ma è una serie di contraddizioni ma lo dico proprio con cuore questa cosa mi capite non sono uno che polemizza la mia età non è questo però non si può non vedere la storia e non si può sentire il campanello perché dio sovente grida attraverso la strada per me è stato così è la strada delle donne e degli uomini io chiamo poi non so se dico bene o è un'altra eresia questa io sono vicino al cosiddetto terzo genere sai questa teologa del queer perché io incontro tanta gente il terzo genere è quello di chi non sa chi è che non ha un lavoro che non sa se ci sarà un futuro che non ha un amore vivo tantissime ore della mia giornata spesso e questo terzo genere mi capite che sono uomini donne sbandati persone e dico ma questi qui sentono la voce c'è bisogno di fiducia di valorizzare abbiamo migliaia di teologhe di donne di comunità animate da donne e non possono accedere al pastorato ma a me sembrano delle cose non voglio attendere mi capite in che senso non sono un impaziente ma la pazienza può essere dannosa Eugen Dreverman questo teologo cattolico dice no basta perché voi con la pazienza ci avete insegnato solo a soffrire a sopportare se la pazienza è per costruire insieme ad agio dei progetti è una bella virtù ma altrimenti la pazienza voi la capite come sopportazione del vostro dominio e della vostra cecità io ringrazio Don Barbero Anna Segre Maria Bonafede per aver partecipato grazie a tutti voi e chi vuole partecipare domani scoprirà domani e vabbè un attimo domani bullismo lunedì storia del movimento LGBT grazie a tutti e buon pomeriggio